Pronto? Chi è? Sono il fidanzato con una grande zoccola! Basta che c'è l'amore! Io sono qui a fare abbadante a vecchia! Pensa che io l'hai trombato con uno che c'è al telefono sotto controllo! E chi lo controlla? Io! Basta che c'è l'amicizia! Io non so di quei dottori che raccomandano i figli! Piuttosto una faccia massa! Insomma, vitto, all'esame mi devi dare una mano per mio figlio! Begli amici che hai! Che amici? Professor Manetti! Un grandissimo amico mio! L'ha bocciato! Un grandissimo figlio della mignota! Basta che c'è l'onestà! Allarme rosso! Abbiamo le cimici in casa! Parla che molti sistemo io! Sono in treno, sono in binaria! Questo presidente è un professionista! Basta che c'è la fiducia! Io pensavo che fosse stato il destino a farci incontrare, va bene? Non c'è tu un microfono nascosto dietro un quadro! Io so che tra voi c'è un po' che vengo a Brenzione! E quale? Perché si annega signora? Stamattina è quattro volte che si è annegata al telefono! Basta che c'è la salute! Signor presidente! Che cazzo faccio il tuo presidente? E' un suo presidente! E' 180! Comandi, signor presidente! Oh mamma che c'hai? Non è niente! Oh mamma, non è niente! Ma non è niente! Ma non è niente! Ma non è niente! Te senti dico... Basta che c'è la stima! Mi dovete stare vicino perché qui si dà la famiglia mia! E' molto bello! Ma sì! Stusiamo però non ho! Novo buona capa! Sì! A così mi piace, amore mia! Spondanea! E se ci sono tutte queste cose... La vita è una cosa meravigliosa! Gigi Proietto, Vincenzo Salenne, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Emanuele Bosi, Virginie Marsan... Un film di Carlo Vanzina! Al film! Amore! Si è fatto male? No, no, io svengo sempre così, grazie! Dal 2 aprile al cinema!